Primo giorno Questo è il Pinobugo Vai Pinobugo Ragazzi mi manca molto Io ci ho messo qua due o meno Ah ok Hai ragione Ma se sono lenti Io sono qua da un quarto d'ora Quanto manca? C'è un'oretta Due 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 Dueaa Conferenza Siamo a 2.069 metri, meno di 200 metri alla vetta. Oddio, ancora 200 metri! Alla prossima! 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 Alla prossima!